Da mesi che comunque il procuratore mi aveva comunicato che comunque c'era interesse da parte del Teramo prendermi, acquistarmi e quindi poi in questi giorni, ci sono stati un paio di giorni comunque per la trattativa e appena ho avuto l'opportunità di venire a Teramo per allenarmi con la squadra e stare con il mister subito sono venuto. Ho fatto 4 anni di settore giovanile a Benevento che poi successivamente sono andato in prestito a Taranto e poi dopo ho fatto un anno di C a Cava che poi sono qui oggi. Sì, sono un giocatore che comunque mi piace lottare, correre e giocare la palla e spero di dare tanto per questa maglia. A Taranto ho incontrato il mister Panarelli che comunque ho fatto giocare a 2, poi successivamente a Cava dei Tirreni abbiamo giocato a 3, a 2, non ci sono problemi. Sono contento di far parte di questa società e di questa piazza importante come Teramo. L'arrivo del mister è stato un elemento fondamentale per il mio arrivo a Teramo perché mi ha voluto e spero di ripagarlo per la fiducia che mi ha dato. Io ho fatto tutto il settore giovanile nel Benevento, sono stato un anno con loro, l'anno della B e poi dopo qualche partita fatta con loro ho deciso di andare in prestito per continuare il mio processo di crescita e giocare con più continuità come ho fatto più nella seconda parte della stagione l'anno scorso a Caserta con il mister. La promessa che posso fare è che sicuramente darò tutto per questa maglia perché non lo farò solo per me stesso, per la mia crescita ma lo farò soprattutto per i tifosi perché meritano di tornare allo stadio e meritano di vedere il Teramo dove merita di stare.